L'agricoltura si evolve intrecciando innovazione e tradizione come un tema importante al centro di una giornata di studi tenuta a Manduria nella Masseria Couturi su iniziativa del GAL Terre del Primitivo che ha registrato la presenza di importanti esponenti della filiera agroalimentare. Fa bene il GAL perché tiene insieme le attività locali e anche questo sviluppo guardando al futuro di questo territorio. È un GAL molto attrezzato su questo che ha fatto grandi passi avanti e fa bene a fare questo momento di riflessione tra vecchia e nuova programmazione, tra OCM Vino e OCM Frutta per le opportunità in termini di diversificazione ma anche e soprattutto di utilizzazione a pieno delle risorse messe a disposizione dalla programmazione comunitaria, nazionale ed anche regionale. Devo ringraziare il GAL Terre del Primitivo per questa splendida iniziativa e rappresento quelle che sono le iniziative che il governo Meloni e il ministro Lollobrigida hanno messo in campo nell'ambito dell'agricoltura. Penso per esempio 6,5 miliardi che in collaborazione con il ministro Fitto sono stati destinati appositamente per il settore agricolo e poi un'altra misura importante per la nostra Puglia che tengo ad evidenziare il divieto per la Puglia ma anche per tutta l'Italia di far cessare l'installazione dei pannelli solari fotovoltaici su terreni agricoli. Sicuramente il GAL sta lavorando molto bene, mi onoro di far parte del CDA ma anche come assemblea per cui per stare al passo dei tempi ormai l'agricoltura tradizionale sì è quella ma da cui bisogna ripartire ed essere innovativi per affrontare nuove sfide.